Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come salvare una clip con Windows 10 o Windows 11 ovviamente se vai a schiacciare il tasto Start che sta sulla vostra tastiera più il tasto G, G di Giacomo tasto Start più G allora il fatto è che su OBS Studio non mi acquisisce così questa schermata quindi quello che devi fare è andare un attimo sulle impostazioni queste impostazioni qua, andare su acquisizione, registra in background mentre sto utilizzando un gioco metti così questa spunta, chiudi qua, vai su acquisisci, qui puoi fare lo screenshot, qua invece puoi fare la clip qua invece registri e qua registri con il microfono quindi quello che ci interessa a noi è questo, salvare le clip, registra gli ultimi 30 secondi tasto Windows più Alt più G e adesso ve lo faccio vedere su un gioco prendiamo così prendiamo così prendiamo così prendiamo così mi faccio una bella camminata e se schiaccio il tasto Windows il tasto Start più Alt più G non è c'è sto scheletro ok ci ha salvato così la clip adesso vado sul tasto Start più G ed eccola qua quindi come puoi vedere mi ha fatto la clip se vado nella sua cartella faccio continua questa è la clip che ho fatto ed eccola qua quindi ripeto per fare la clip imposta così su acquisizioni che ti permette di registrare in background e poi schiacci il tasto Start più Alt che sta vicino al tasto Start più G G di Giacomo ed eccola qua qui puoi andare nella sua cartella piena di clip eccola qua e questo è il video che ho fatto prima ok ed eccola clip quindi se questo video ti è stato utilissimo su come fare una clip con Windows senza neanche scaricare programmi tu basta che premi il tasto Start più G tasto più Alt più G e ti esce così la clip salvi gli ultimi 30 secondi quindi se ti è stato utilissimo iscriviti al canale attiva la campanellina e lascia un like e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao